E' un'iniziativa importante quella di ripulire le nostre spiagge, la nostra prima iniziativa pubblica, credo che sia un atto davvero di particolare importanza nei confronti della cittadinanza e anche nei confronti di una stagione turistica che è partita e quindi a partire da noi dobbiamo dare buon esempio per lasciare le nostre spiagge sempre pulite e cercare di ridare quel decoro urbano alla città che manca ormai da molto tempo. Benissimo, comunque c'è molta partecipazione, ognuno vuole dare la sua parte, non è solo una vetrina di esposizione, però vediamo che i rifiuti vengono tolti veramente. Grazie